Sono lieto di presentarvi il test di saldabilità automatizzato. Questa è una tecnologia avanzata per garantire e determinare la processabilità dei componenti nel processo di saldatura. Soprattutto con i componenti più vecchi, c'è spesso una sfida nel determinare la saldabilità in modo oggettivo e quantitativo. Il sistema di test di saldabilità ad alta precisione e completamente automatico consente di determinare e documentare l'esatta forza di bagnatura di ogni singolo pin del componente. Diamo un'oppiata da vicino a questo processo. I pin centrali dei componenti vengono rimossi manualmente. E poi riscalda i pin vengono immersi nel bagno di saldatura a profondità definita. Le curve tempo-forza registrate mostrano se il componente ha superato il test di solubilità. Il componente viene quindi rimosso e i pin vengono esaminati otticamente sotto il microscopio ottico. Tutto viene registrato in un rapporto di prova. Primo consiglio controllo di qualità su cui puoi contare.